Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andiamo avanti su The Sims 4. Allora, nel scorso episodio avevamo accettato una nuova offerta di lavoro come modella e dovevamo solo vedere un attimo, come si chiamano, le audizioni aperte, ecco. Allora, guardate qua che bello il mio cane. Allora, abbiamo fare musica e compenso per l'ingaggio 150 a 490. Lunedì alle 19. Adesso che giorno è? Adesso è domenica. Uh, ci sta, ci potrebbe stare. Poi ne abbiamo un altro. Ah, quindi ne abbiamo due. Forse ci conviene di più lo spot pubblicitario. Dai, accettiamolo. Accettiamolo e vediamo un attimo come funziona. Che sta chiamando. Ah, no, cosa sto facendo? L'ha accettato? Sì, inizio a rendere 19. Livello 2 di carisma. Io adesso di carisma quanto? Diamo un attimo. Cucina carisma. Oh, livello 3. Sì, livello 3. Allora, vediamo un attimo. Qua va un cucinato e forse questo è meglio rimetterlo in frigo. Sì, non va male. Quindi mettiamolo in frigo. Anche qua questo mangiamolo. Dai, mangiamolo. Vai, mangio. Come siamo? Questo cos'è? Allent per una totale di 8 ore. Scrivo a cos'è questo. Dove vedere un attimo cos'è questo perché non so tanto bene. Ah, le aspirazioni. Io direi un'aspirazione animale, dai. 75. Usa interazioni amichevoli con gli animali 12 volte. Potrei provare a utilizzarle. Allora, ripulisci. Guardate qua. Allora, quindi usa interazioni amichevoli. Dai, facciamo degli... Dai, un dolcetto. Non so se questo qua viene considerato come amichevole. Vediamo un attimo. Dai, vai più veloce. Aumenta il passo. Ecco. Vai, vediamo se viene... Lo conta? Per dolcetto. No, non viene contato. Ah, sì, viene contato. Vediamo ancora. Carezza. Così facciamo tutto. Vai veloce. Abbraccia. Abbraccia. Siamo a 2. Dobbiamo farne 13. Vai, abbraccia. Ora 2. Abbraccia. Vai. Vai, vai, vai. Oh, ah, ne arrivano altre nuove. Ed è da 200. Però io adesso quanti ne ho? Ho 200. Ah, e con queste posso avere... Delle pozioni. Sì. Che pozioni? Sempre piena. Uh, figo questo. Ci potrebbe stare. Vabbè, lasciamo così per il momento. Vediamo i nostri bisogni. Di cosa abbiamo bisogno. Dove vengono indicati? Dove vengono indicati i nostri bisogni? Forse qua. Ecco qua. Non abbiamo bisogno di niente. Però sono già le 19.20. Io direi di andare a dormire. Vai, proviamo questo letto. Vai, vediamo. Andiamo a dormire. Che domani dobbiamo svegliare... No, che ora era le audizioni? Ah, le 19. C'è ancora un po' di tempo. Comunque, domenica. Estate. Fa caldo. Parzialmente nuvoloso oggi. Allora, dormiamo fino a quando è tutto pieno. Energia. Vai, veloce. Ok, può anche bastare. Quindi vai a mandarla a fare... Oh, sta dormendo. Che tenero. Tenera, scusate. Ok, l'abbiamo mandato. Dovrebbe iniziare a pensare a come migliorare la propria istruzione. Dai un'occhiata. Ah, c'è l'università. Ma per il momento noi non ci pensiamo all'università. Quindi, andiamo subito in bagno. Ok, non ce la fa più. Deve andare per forza in bagno. Usa. Vai, usalo. Non va? Ah, ok, va. Così è apposto anche con la vescica. Andiamo a mangiare gli avanzi di ieri. Quindi... In forma. Altre scelte dove alimentare. Apri, ecco. Umi si è lavata le mani. Brava. Ok. Mangia. Cosa abbiamo? Questa? Ah, ancora tre giorni. Oh, perfetto. Abbiamo da mangiare. Quindi finiamo anche di mangiare. Andiamo più veloce. Sono le quattro di mattina, quasi. Vai, mangia, mangia. Adesso... Ah, piove fuori. Sì, piove. Comunque, fino a che finisci di mangiare, diamo un'occhiata al nostro bel paesaggio. Vicino all'appartamento. Come potete vedere abbiamo anche il campetto da basket. Io direi di andarlo a provare. Perché fa così buio? Andiamo subito a provarlo. Tira... Tira avvicinati. Dai, vai. Vai veloce. Dove sei? Oh, sta correndo. Perfetto. Vai, vediamo se riusciamo a fare canestro. Con la pioggia è la cosa migliore per allenarsi. Uh, fuori. Dai, però ci alleniamo un pochino. Così ci sale anche l'abilità. Vai. Vai. No, vicino, vicino. Ancora due tiri. Uh, quasi. Fino a che non fa canestro non la... Non ce la fa, non ce la fa. Non ce la faccio proprio. Non riesco a fare canestro. Ma proprio tutte fuori. Deve salire... Uh, ce l'ho fatta. Perfetto. Lasciamo così. Questo com'è che funziona? Com'è che funziona questo? Esercizio. Fai delle flessioni. Vediamo se sono capace. Ok, smettila là. E vai qua a fare delle flessioni. Gioca sotto... No, com'era? Ho sbagliato. Gioca sotto la pioggia. Dove vai? Io voglio che fai le flessioni qua. Non si può? Dai. Non l'avevo fatto prima. Forse l'avevo scherciato per terra. Non lo so. A disagio per la pioggia. E io adesso sballo sotto la pioggia. Ma non funziona questo? Non lo so. Boh, prima funzionava. Gioco? No, c'è solo gioco sotto la pioggia. Non c'è la possibilità. Cos'è questo? Igiene. Dobbiamo... Ah, ci stiamo banando. Dovrebbe salire un po' l'igiene. Chi è lui? Uno giovane. No, non è il nostro tipo. Voi dobbiamo trovare qualcuno per... ...una mancia. Dai, diamogli una mancia. Di un euro. Siamo proprio tirche. Sono proprio tirche, ecco. Però non è neanche il massimo come suona. Però adesso voglio suonare anch'io. No, voglio anche io suonare. Non si può. Non so se si può suonare. Boh, qua... Questo cos'è? Eh, un bagno. Un bagno. Forse funziona anche l'igiene. Non lo so. Vai, 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 veloce. No, l'igiene scende. Quindi andiamo subito a casa. E andiamo subito a fare una bella doccia. Prima di andare alle audizioni. Perché... Se no, ecco. Usiamo la vasca. Oh, ma possiamo fare pure il bagno alaica. Adesso magari lo facciamo. Vai veloce a fare sta doccia. Che tra un... Vabbè, mancano ancora un bel po' di ore. C'è la doccia. Veloce, veloce. Comunque devo pensare un attimo a cominciare meglio l'appartamento. Dai, vai. Ancora fuori che piove, ma non smette. È lento, è lento, è lento. Ha disagio. Perché ha disagio? Per aver usato il bagno pubblico. No, dai, che li passa. Li passa, dai. Qua è tutto a posto. Sono le 10. Alle 19 l'audizione, sì. Sono fiduciosa. Quindi, abbiamo bisogno di qualcosa altro? Niente. Facciamoli un bagno anche alaica, dai. Fai un bagno di fango. Fai un bagno alaica, ecco qua. Dov'è alaica? Dove sei alaica? Guardate che bellezza. Chi è che mi chiama? No, non voglio rispondere, non voglio rispondere. Allora. Facciamo un bel bagnetto, così è pulita. Guardate com'è pulita. Che problema, c'è niente problema? Che non li... C'è qualcosa che non è a posto. Vai, se mi risponde... Non mi risponde. Cosa vuol dire quel segno? Ah, deve andare in bagno. Altre scelte. Non c'è porta. È pure dell'animale, non c'è. Eh, la mando, però non so se riesce da sola. Di cosa abbiamo ancora bisogno? Fame, per il momento. Andiamo a fare questa audizione. Mangio. E poi puoi pure partire per l'audizione. Sono già le 17. Ok. La fame sta aumentando. Cosa sto mangiando? Tramezzino. Eh, non so se ho fatto il tramezzino. Forse avevo qualcos'altro nel frigo. Anche a sonno. Però ormai deve andare in bagno. Dormi poi dopo, vediamo un attimo poi come vanno. Ripulisci, perché deve essere tutto pulito. E mi sa che adesso dovresti andare. Vediamo. E come si fa? Come si fa ad andare? Vai. Aspettiamo le 19. Ok, com'è facile andare? Se clicco sopra. Altre scelte. Altre scelte. E come faccio ad andare? No, non devi dormire, devi andare alle audizioni. No, come faccio ad andare? Non so un capace. Devo aspettare. Svegliati, che devi andare. Non va da solo? Da sola? Oh mamma, ma non puoi dormire adesso, devi andare alle audizioni. Forse su azioni? No. Dove va? Ah ecco, va adesso. Un po' in ritardo, ma meglio di niente. Ok, sta andando. Vediamo a che ora torna. Audizione fallita. No, non sono stata rifiutata l'audizione perché non leggevo bene la battuta. No, non ci posso credere. Che disastro. Vabbè, vai a dormire che è meglio. Dimentichiamo stagiornata. Dormi. Vediamo altre audizioni se ci sono. Vai. Dormi un po'. No, ma non puoi rifiutarmi. Uffi. Dai, svegliati, che devi controllare. Provedere un attimo, se accettare qualcosa. E deve andare in bagno. E vai in bagno. Ecco, ne abbiamo un altro. Mercoledì. Mercoledì alle nove. Mh, 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 mh. Livello 2 di comunicità. Boh, io poi non so su quale vado. Devo pensarci un attimo. Prima di te, allora vai in bagno. Così sei a posto. Vai. Usa. Usa veloce. Usa. Perfetto. Boh, comunque è già passata una mezz'oretta. Da quando registro. E il video non lo voglio far diventare troppo lungo. Comunque, io questo video qua lo concludo qua. Se vi è piaciuto lasciate un like. Iscrivetevi al canale. Ah, e grazie a tutti per i 300 iscritti. Che siamo arrivati a 300. Piano piano stiamo salendo. Comunque, lasciate un commento con scritto. Se vi piace questa serie. Cosa volete che faccia. E grazie a tutti della visualizzazione. E buona giornata. O salato a tutti. O salato a tutti.